Il vecchio ospedale di Prato, Misericordia e Dolce, verrà demolito e l'ex area si trasformerà in un parco urbano. Il sindaco Matteo Biffoni ha detto che gli piacerebbe avere nel centro della città un polmone verde come Central Park di New York. Oggi regione, provincia, comune e soprintendenza hanno sottoscritto un accordo di programma che prevede la demolizione e la bonifica del vecchio presidio ospedaliero, la cessione della proprietà di una parte al comune di Prato che provvederà a riqualificarla. Il progetto della precedente amministrazione era quello di trasformare l'area in appartamenti. Con questo accordo noi ci mettiamo d'accordo con il comune sulla cessione al comune e quindi il comune potrà iniziare un lavoro di studio e di riqualificazione di tutta l'area. Mi pare una cosa importante, un nuovo ospedale si costruisce moderno, la vecchia area la si riqualifica e se ne coglie l'occasione per fare una cosa bella e utile per la città di Prato. Lì era l'idea che di chi ci precedeva era quella di farci appartamenti, secondo me è un modo di pensare vecchio, nel senso che non è questo che Prato merita e non è quello che Prato si aspetta. Lì siamo a ridosso del centro storico, penso che in un'occasione così pochissime città possono permettersi di giocare. L'idea è pensiamo a quello che vogliamo per far sì che quello sia il biglietto da visita della nuova città di Prato. Il primo passo da compiere sarà l'adozione della variante urbanistica per consentire il cambio di destinazione ed uso degli edifici. La firma del preliminare d'acquisto dovrà avvenire entro il 2016, mentre la demolizione entro un anno da tale firma, quindi a inizio 2017. Infine, entro 18 mesi, dall'inizio dei lavori di demolizione, sono previsti l'approvazione definitiva della variante urbanistica, il completamento delle opere di demolizione e la bonifica. In pratica, se saranno rispettati i tempi indicati, la realizzazione del parco dovrebbe avvenire entro il 2018. 12 milioni il costo che l'amministrazione di Prato dovrà sostenere, 7 provenienti dallo stesso comune e 5 dalla provincia.